Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo format del nuovo anno, cercheremo di fare dei video molto brevi per farvi vedere tutte le importanti novità che ogni mese Home Assistant introduce nelle sue release quindi oggi parteremo dalla release appunto di gennaio del nuovo anno, nello specifico quella che vedete nel mio schermo e vi descriverò velocemente tutte le nuove funzionalità. Allora per prima cosa questa release introduce il concetto di alias modificabili direttamente dalle impostazioni dei dispositivi quindi qua basterà andare a prendere un qualsiasi dispositivo, per esempio questo, andare sulle impostazioni avanzate e come vedete ci sarà la possibilità direttamente dall'interfaccia, prima era possibile solo da file YAML, andare a definire gli alias. Gli alias per cosa possono servire? Per esempio per i nostri assistenti vocali come Google Home quindi la possibilità di chiamare una determinata entità in vari modi. Questa è la prima importante novità, anche perché Home Assistant, vi ricordo, sta studiando un suo assistente vocale che sarà rilasciato nel corso del 2023. Proseguendo con le novità, ha messo a disposizione, adesso qua non ve lo posso far vedere un modo un po' più semplificato per appunto agganciare le periferiche Matter oltre aver anche rilasciato una nuova app per Android che si chiama Home Assistant Companion per Android che potete scaricarla e utilizzarla appunto per le periferiche Matter anche se in questo momento non sono così diffuse. Un'altra cosa, ha esteso il supporto del calendario che era già stato introdotto nella versione precedente ovvero adesso è possibile gestire un calendario locale e in più da questa versione è anche possibile gestire direttamente le modifiche degli appuntamenti. Vi ricordo che per poter abilitare il calendario locale qui bisogna andare ad aggiungerlo bisogna andare ad aggiungerlo in dispositivi e servizi come vi sto facendo vedere aggiungi integrazioni, basterà mettere calendar, local calendar diamo un nome al calendario e invio. Ok, a questo punto avremo il nostro nuovo calendario quindi come potete vedere qua sarà possibile aggiungere eventi modificarli poi successivamente quindi questa è un'altra delle novità sono state migliorate anche la traduzione nelle varie lingue delle varie entità che però qua non sto a annoiarvi sono state aggiunte delle nuove integrazioni nello specifico la cosa secondo me più rilevante è il Google Assistant SDK che è possibile utilizzarlo e inoltre ci sono state delle modifiche e delle breaking change che però sinceramente non ritengo degne di nota per essere segnalate. ultima novità importante poi è stata anche una richiesta a furor di popolo ovvero l'integrazione Reolink delle telecamere quindi che da questo momento oltre a essere disponibile in AX è anche disponibile ufficialmente quindi la possiamo trovare senza bisogno di installare AX in dispositivi e servizi aggiungendo l'integrazione e cercando Reolink come potete vedere è già installabile da qua detto questo chiudiamo questo nuovo format spero che vi sia piaciuto dateci tanti like scriveteci nei commenti appunto la vostra considerazione su questi video flash e che andremo a fare ogni mese per ogni rilascio di Home Assistant ma non solo per Home Assistant stiamo progettando anche di farli per altri importanti software in abbinamento Home Assistant come può essere Node-RED o ZigBee M.Ptt quindi iscrivetevi ragazzi e io vi saluto ciao